Ben trovati da Marco Liguori e in gravi condizioni il grandissimo cantante stiamo parlando di uno dei cantanti più importanti al mondo un mito assoluto della musica mondiale e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video in questo video parliamo del dramma che sta tenendo con il fiato sospeso i fan di tutto il mondo un mito della musica e in gravi condizioni ci stiamo riferendo alla leggenda vivente Phil Collins che purtroppo si è ritirato dai concerti dal 26 marzo 2022 sappiamo che Phil Collins dal 2007 ha problemi alle vertebre del collo ha fatto un intervento nel 2009 e uno nel 2015 e ha dovuto smettere di suonare la batteria a destare preoccupazione sono state le parole del suo ex compagno di band dei genesis Mike Rutherford che ha detto Phil Collins è a casa immobile e a rincarare la dose nella preoccupazione dei tanti fan ci sono proprio queste foto vediamo un Phil Collins stanco e emaciato e con gravi problemi di mobilità il primo anno di Marco Liguori vi terrà aggiornati sulle condizioni di salute di Phil Collins voci non confermate provenienti da oltreoceano ricordiamo che Phil Collins vive a Miami ci dico che il cantante potrebbe essere addirittura in fin di vita ovviamente speriamo che non sia così amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video ciao a tutti